E vabbè dai la catena, dai dai mettete giù quegli scudi, quei manganelli, cazzo avete voglia solo di picchiare, finitela un po' no? Basta, basta dai! Via, via la polizia! Via, via la polizia! Usi l'animi! Ah vai dai, solo con le ginocchiere ma... Fuori, Alfredo, dal 41 bis! Fuori, Alfredo, dal 41 bis! Libertà, 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 libertà! Tranquilo! Coltero, Coltero, Coltero! Gr致i al 41, propria condizione come oggi! Molte? Mi raccomando a tutti gli angoli, uomini e terra, pronti, in caso di venire una doccia. La nostra passione per la libertà è più forte di ogni autore. La nostra passione per la libertà è più forte di ogni autore. La nostra passione per la libertà è più forte di ogni autore. La nostra passione per la libertà è più forte di ogni autore. La nostra passione per la libertà è più forte.